ad accogliervi sarà conegliano ben trovati al meteo dopo la variabilità portata dal passaggio di un impulso instabile il tempo migliora anche se non è esclusa ancora qualche pioggia il dettaglio di giovedì 25 maggio sul veneto avremo una nuvolosità irregolare alternata a schiarite avremo frequenti annuvolamenti associati a qualche probabile precipitazione specie sul veronese ma localmente anche sulle alpi andrà migliorando con il passare delle ore temperature stazionarie minime tra 12 e 17 gradi massime tra i 23 e i 27 all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia e giulia anche qui tempo più stabile con ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso temperature minime sui 15 16 gradi massime invece intorno ai 24 27 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige dove la mattinata vedrà rovesci e temporali piuttosto diffusi poi con il passare delle ore in attenuazione temperature minime intorno ai 14 16 gradi massime sui 25 all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci ad accogliervi sarà conegliano grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione